Baroni è pronto a cambiare pelle al Pescara e anche Modulo. Il tecnico Biancazzuro potrebbe schierare il Defino Sabato al Rigamonti, non con il consueto 4-3-3 ma con il 4-3-1-2 e con la ghiotta Novità di Pasquato a ridosso delle due punte che saranno Melchiorri e Maniero. Il Pescara potrebbe dunque scendere in campo in terra Lombarda con il Rombo, uno tra Memushai e Alpelpirei avrà le chiavi del centrocampo con Selasi e Biarnason sulle fasce. In Lizza per una maglia c'è anche Lazzari che potrebbe giocare al posto dell'islandese. In difesa scelte obbligate con Grillo e Zampano sulle fasce e Zupari c'è uno fra Salamon e Ciosic al centro. Ai boxi tanti infortunati, Bunonza, Venuti, Pesoli, Fiorillo, Brugman, Milicevic e Caprari. I Biancazzuri partiranno nel pomeriggio per la Lombardia con un giorno di anticipo sul previsto. Parliamo sempre in maniera individuale, non è che per me, non è una situazione facile per la squadra. Anche qui non si parla dell'allenatore o della squadra. Qui siamo un corpo unico, non ho timori in niente. Io voglio preparare con la mia squadra, stiamo lavorando per cercare di lavorare principalmente sugli errori che stiamo commettendo perché sono due partite che abbiamo preso tre gol su pala inattiva. Stiamo lavorando su questo. Stiamo lavorando sulla capacità di andare in campo anche con meno tensione. Però questa non è che si cancella con una gomma. È normale che abbiano delle tensioni diverse. Mi viene in mente adesso una squadra che sta facendo benissimo. Che tra l'altro noi abbiamo affrontato la prima di campionato e abbiamo tritato. E questa squadra adesso, che è il Trabani, subisce molti gol. Quasi più di noi. Però c'è una convinzione dettata alla classifica che anche un 2-0 va a vincere 3-2. Ma questa è una condizione dettata dall'autostima che ti dà il momento. Per noi non prendere gol è fondamentale perché questo è un campionato che quando va in vantaggio, e basta vedere noi, le volte che siamo andati in vantaggio, abbiamo portato punti a casa. Ci vuole una squadra che vada in campo con convinzione. È chiaro che non si può cancellare tante cose. Ma cercando di andare intanto a migliorare sia il suo atteggiamento, che comunque ci siamo, e forse ripartire anche proprio dagli ultimi 15 minuti. Perché è stato anche il momento in cui sono rientrati alcuni giocatori per noi importanti. E io mi aspetto molto da questi giocatori.